Intanto a 30 anni più che ragazzo comincia ad essere anche un ometto, eh, voglio dire. Eh no, guarda che ormai si è ragazzi fino a 60 anni. Va bene, Cesare, Cesare ragazzi. Ma siamo sicuri che dire tra quello dita Berlusconi sia uno sport alla portata di tutti? Nel nostro podcast uno degli argomenti che abbiamo alle volte quantomeno sfiorato è la differenza tra un ragionamento che si basa sul logos e quindi potenzialmente universalizzabile e invece la mera testimonianza che secondo me e non secondo Andrea può a quel punto essere direttamente tramutato o tradotto in un insulto. Mattia Santori con la sua pacata e criptica critica alla discesa in campo di Berlusconi per la posizione di Presidente della Repubblica mi dà l'occasione per tentare di chiarire questi punti. Beh, credo che Mattia Santori lo conoscano un po' tutti. È uno dei capi del Movimento del Sardine, campione europeo, anzi europeista di politicamente corretto in lungo. Non devo sicuramente presentarlo ulteriormente. Ha detto che dall'alto dei suoi 34 anni, di cui la maggior parte passati con la figura di Silvio Berlusconi sullo sfondo, che lui chiama Trovrodita, sono stati abbastanza. È stufo, gli fa schifo che la politica non riesca a tirare fuori dei nomi migliori rispetto a quello appunto di Berlusconi che sarebbe ora di voltare pagina perché l'esperienza con Berlusconi è stata disastrosa. Alcuni dei motivi che lui utilizza per spiegare questo sono abbastanza ambigui perché un po' cerca appunto di portare delle motivazioni razionali, al di là del fatto che la ragione intrinseca sia errata o meno. Cioè per esempio lui parla delle politiche economiche di Berlusconi che secondo lui hanno portato l'Italia sul loro del baratro nel 2008. Parla poi delle azioni fiscali che secondo le sue parole fecero aumentare la percezione dello stato ladro. Parla dell'equiparazione tra droghe leggere e pesanti della Fini-Giovanardi e del favoreggiamento della clandestinità sempre secondo lui della Bossi-Fini. Più altre cose che però non voglio citare. Mi pare chiaro che qui però c'è ancora una volta una certa confusione tra quei concetti di cui appunto parlavo prima. Testimonianza da una parte che vuol dire a me certe cose piacciono, certe altre cose non piacciono, quindi sto per quelle cose che mi piacciono, senza però necessariamente offrire una motivazione, invece delle cose che invece appunto si basano su qualcosa che potrebbe essere potenzialmente condivisibile semplicemente perché sono intrissecamente giuste. Intanto devo dire che ho appena scoperto che Santori ha 34 anni, sono un po' caduto dal pero perché un po' lo trattano come l'enfant prodigi della politica italiana, un po' perché quando lo sento parlare sembra un diciottenne. E vabbè dai, va benissimo così. Poi cosa devo dire? Io credo che se tu parti in un tentativo di dialogo dando a uno del troglodita, poi motivare dopo è veramente superfluo e stupido, perché se iniziassi dicendo Santori è un imbecille, non sto dicendo che è un imbecille, è un esempio, è chiaro che Santori ha tutto il diritto di non ascoltarmi e di non ascoltare le mie motivazioni. E qual è il secondo problema? Che è vero che lui ha citato alcune leggi discutibili. Il problema è che di Berlusconi ci sarebbero tante altre cose discutibili su cui parlare. L'impero di Berlusconi, come ha cambiato il modo di pensare di questo paese grazie alle sue tv, la sua amicizia con Dell'Utri, tante cose, però alla fine la verità è che lui ha voluto usare quel trogloditi per far contenti gli amici di Capalbio, no? Che si diranno, hai visto il nostro ragazzo come ha colpito duro il vecchio Berlusconi. Non so, mi sembra veramente che siamo all'asilo. Tra l'altro poi quel troglodita, io devo abbinarlo al fatto che poi l'ha citato la Cerinna e la Luxuria come ottime candidate per la Presidenza della Repubblica. È chiaro che a quel punto il focus di Santori è che Berlusconi, nella vita privata, diciamo, in camera da letto, ha avuto dei comportamenti discutibili. E siamo appunto a capo, no? Siccome anche io ho vissuto questi 30 anni di Berlusconi, ho visto la sinistra parlamentare per mettere qualunque cosa a Berlusconi. Se avrebbe bastato fare una legge sul conflitto di interessi e lo mettevi fuori, però una vera legge sul conflitto di interessi magari ti crea qualche problema con le cop, per dire, o col tentativo di prendere una banca. Io mi ricordo una telefonata, abbiamo una banca. Non l'hanno mai fatte. Poi sono venuti fuori bunga bunga ai festini e lì hanno massacrato Berlusconi in tutti i modi, accusandolo persino di essere un pedofilo. Ora, Rubi l'abbiamo visto tutti in televisione per foto, era minorenne effettivamente, ma non aveva dei caratteri infantili neanche per sbaglio. E questo secondo me è proprio la foto perfetta della sinistra italiana di questi anni, che le battaglie vere non le ha combattute, invece si è schierata, compatta, per qualcosa che per un presidente del Consiglio è serio e grave, però tutto sommato il meno dei mali di Berlusconi. Ma allora, è chiaro che se io dovessi criticare Berlusconi lo farei su una base completamente diversa da quella di Santori, che mi pare ovvio, in realtà ha una visione del mondo che è molto simile a quella di Berlusconi stesso, quindi, ma lo sappiamo, no? Ormai la differenza tra una certa parte del paese, quella che si potrebbe chiamare quella dei semicolti, e un'altra parte del paese, quella dei deplorevoli, è veramente minimale, in realtà. E si bada esclusivamente appunto su questi diritti civili. Non per niente Santori tira fuori la cirina e la luxuria. Però non era neanche questo il discorso che volevo sottolineare. Io appunto volevo ribadire questa incapacità da parte di Santori di capire la differenza, appunto, come dicevo prima, tra mera testimonianza unilaterale e invece il tentativo di aprire un dialogo. Non dico è che avesse dovuto per forza cercare di aprire un dialogo con Berlusconi o con i berlusconiani stessi, ma quantomeno con una terza parte neutra. Però è chiaro che lì devi farlo, però su una base di ragione, di logos. Non lo puoi fare dicendo semplicemente a me queste cose non piacciono. E parlando di questo, volevo parlare anche della risposta a Santori che è arrivata da parte di un giornalista del giornale. È interessante perché innanzitutto il giornalista, come dice lui stesso, è coetaneo di Santori e si vede proprio in controluce la somiglianza tra i due, se uno riesce a leggere fra le righe. Innanzitutto perché il giornalista dice io ho la stessa età di Santori, però non considero il trentennio berlusconiano un disastro. Quindi Santori che non si presenti come il portavoce di un'intera generazione. Però anche qua, cos'è che fa il giornalista per spiegare la sua invece motivazione? Innanzitutto parte con una frase, cito perché è interessante, sul fatto della grande recessione del 2008 e ci sono, dice lui, dei ragazzi in grado di capire che nel 2008 in Italia arrivarono gli effetti della grande recessione e non fu certo scatenata dal governo Berlusconi. Poi però dice ci sono dei giovani che non hanno affatto provato vergogna viaggiando per l'Europa sapendo Berlusconi o Palazzo Chigi e c'è gente che preferisce l'abolizione della tassa sulla prima casa ai pacchetti di imposte partoriti da Prodi e Visco. Più altro che appunto non voglio parlare. Allora c'è un in grado di capire, quindi ragionamento, logica, logos, e poi però non hanno affatto provato vergogna. La vergogna non è un sentimento che tutti provano allo stesso modo, è una questione di valore individuale e gente che preferisce l'abolizione eccetera eccetera. Anche qua c'è gente che preferisce tante cose. Cosa dovrebbe suscitarmi il fatto che qualcuno mi dica io preferisco questo rispetto a un altro? Io no, per esempio. Cioè in buona sostanza è proprio una risposta totalmente speculare a quella di Santori. Confusione tra ragionamento e testimonianza in Santori, confusione tra ragionamento e testimonianza nella giornalista del giornale. Quindi secondo me era ovviamente insufficiente tutti e due nel loro tentativo di fare un discorso pubblico. Intanto a 30 anni più che ragazzo comincia a essere anche un ometto, eh? Voglio dire. Eh no, guarda che ormai si è ragazzi fino a 60 anni. Va bene Cesare, Cesare ragazzi. E a parte il fatto naturalmente che questa era un'isposta dovuta dal giornale di famiglia di Berlusconi e ci sarebbero anche alcune cose interessanti alle quali potrei rispondere perché è vero che la crisi economica è arrivata dagli Stati Uniti d'America ma il fatto che l'Italia sia il paese che ha risposto peggio a questa crisi beh, non ha colpe tanto nelle manovre iniziali di Berlusconi per rispondere alla stessa ma nel fatto che nel trentennio berlusconiano l'Italia si è paralizzata su se stessa ed è andata indietro e quindi la risposta è stata scarsa per quello e lì ci sarebbe un'analisi che nessuno di loro ha voglia di fare ma qual è il fatto? Questi due ragazzi sono molto più simili di quello che pensano secondo me se si trovassero seduti a un bar andrebbero molto più d'accordo tra di loro che con noi perché? perché sono apparentemente su due parti diverse ma sono cresciuti nello stesso ambiente pensando cose molto simili poi vabbè io ritengo Santori un piccolo Renzi quindi sta alla sinistra veramente come la mia mano destra e quindi è chiaro che questo è un dialogo allo specchio probabilmente andrebbero d'accordo solo parlando di meritocrazia sono cresciuti in un ambiente in cui i valori reali sono un po' sballati e sono sballati proprio dal berlusconismo quindi che piaccia o meno a Santori lui è cresciuto con quell'humus e il giornalista rispondendo con toni molto simili a quello dell'ex Sardina dell'attuale Tonno immagino mi conferma questa cosa sembra quasi che l'abbiano fatto apposta per confermare le mie idee poi magari sai qua siamo di fronte a un bias ma non credo di andarci tanto lontano ma allora sì hai perfettamente ragione sul discorso della meritocrazia e fa sorridere questa cosa perché ci troviamo di fronte a due ragazzi che in buona sostanza avevano un compito quello non soltanto di dire la loro ma anche di cercare di portare qualcun altro all'interno della loro visione e nessuno dei due è riuscito a farlo in realtà perché di fatto il modo con cui hanno affrontato il discorso è esclusivamente appunto testimoniale nonostante che loro non abbiano capito evidentemente che c'è una differenza come continuo a ripetere e quindi non credo che ci sia qualcuno che abbia cambiato idea leggendo le testimonianze di uno o dell'altro quindi per me sono dei discorsi gravemente insufficienti mi dispiace dare un voto così però secondo me non hanno raggiunto lo scopo eppure appunto come dicevi giustamente tu prima se questi due si trovassero a un tavolo di un bar a parlare sulla meritocrazia sarebbero assolutamente d'accordo guarda te c'è da riflettere su questo cioè tra questi che hanno qualche problema nel capire per esempio come funzionano le dinamiche della senso e del dissenso parlino poi di meritocrazia forse dovrebbero lasciare la parola a gente che ne sa un po' più di loro non noi ma ci sono altri che sono sicuramente molto più titolati di noi poi per chiudere faccio una semplicissima osservazione ma siamo sicuri che dire tra quello dita Berlusconi sia uno sport alla portata di tutti grazie a tutti grazie a tutti